Crea tu una tua associazione, devi prendere qualcosa che per te è sempre grigio e dopo creare il collegamento con il concetto di rifiuto misto. Molti vogliono imparare le tecniche di studio, le strategie per apprendere più velocemente finalizzate solo all'apprendimento universitario, accademico o professionale. In realtà le tecniche dopo danno vantaggi nella quotidianità. Ogni volta che uno deve memorizzare qualcosa è estremamente bello avere gli strumenti per farlo. Ti faccio alcuni esempi. Qui c'è il cestino per la raccolta differenziata. Ci sono sopra le targhette vetro verde, plastica giallo, carta blu, misto grigio. Ecco, se non ci fossero le targhette uno probabilmente tutte le volte penserebbe qual era quello. Io creo sempre e subito un'associazione. Non voglio leggere, voglio andare con il piloto automatico. Quindi che cosa faccio? Per memorizzare che carta è quello azzurro ho immaginato semplicemente dei coriandoli che cadono dal cielo. Quindi creo un'associazione tra qualcosa che è di colore azzurro e l'elemento carta. Quindi immagino coriandoli della carta che piove dal cielo. Quindi tutto quello che è carta la metto qui dentro. Dopo vetro è quello verde. Immagino le bottiglie della birra o del vino verdi. Non tutte le bottiglie sono verdi. Se avessi dei dubbi c'è pure qui l'iniziale che mi aiuta. La prima sillaba ve, vetro, ve, verde. Quindi questo mi aiuta. È un'alliterazione che mi può aiutare. Plastica giallo. E prendo qualcosa che per me è giallo sempre. Puoi prendere il sole o un papero. Scegli tu e puoi immaginare la paperella di plastica gialla. In questo modo tutte le volte che devi prendere qualcosa di plastica lo vai a mettere nel posto giusto. Grigio, misto. Crea tu una tua associazione. Devi prendere qualcosa che per te è sempre grigio. E dopo creare il collegamento con il concetto di rifiuto misto. Un altro esempio è quello del monopattino. Tutte le volte lo avvicinavo alla presa della corrente dal lato sbagliato. Per memorizzare come andava messo. Dove attacchi il filo per ricaricarlo. Puoi notare dalla foto che è il lato dove è davanti. E ci sono due fili. Uno rosso e uno nero. Io a volte lo avvicinavo con la ruota posteriore anziché quell'anteriore. La cosa che ho fatto è stato, ok, allora immagino che per ricaricarmi o per ricaricarlo lui tifi Milan. Guardi le partite del Milan e in questo modo si ricarica di energia. Perché Milan? Colori rosso e nero. E' l'elemento differenziante perché è l'unico punto in cui ci sono quei colori. Sul lato dietro non ci sono, sul lato destro davanti non ci sono. Questa cosa mi aiuta. Tante persone hanno difficoltà ad esempio con il lato da cui fare benzina. Alcune auto ce l'hanno a destra, altre a sinistra. Puoi immaginare sulla tua auto se ha il pieno, il serbatoio a sinistra. Uno, se guardi il cruscotto, c'è una linetta che ti dice da che lato è della macchina. Devi guardare sotto la spia del carburante. Se però volessi memorizzarlo come faccio io, puoi immaginare che chi fa benzina, chi fa il carburante, è una persona o di sinistra, in caso in cui tu l'abbia lato guidatore, oppure una persona con idee politiche di estrema destra. In questo modo quando ti trovi davanti al distributore, non sai se andare a destra o a sinistra e dopo ti trovi a dover passare con la pompa che non arriva e così via, sai come fare. Quali sono gli ambiti che ti mettono in difficoltà e che tutte le volte dici non so come si fa? Scrivelo nei commenti e vediamo come memorizzarlo insieme.